Adesso non devono andare più avanti di così certo che per anno fatto c'è le wii ci hanno fatto il lavoro Io forse dovrei c'è un precipizio dove potrei andare se sì c'è un precipizio vogliamo attaccarli appena Io l'ho l'attacco da smoke Sono già andati sono già andati Stanno partendo stanno partendo ma andiamo sotto non si può Sì ma non lo so E' la spitter chi è la spitter mi raccomando atti ecco dove ok appena prendo qualcuno No Vabbè dai quasi Non gli abbiamo fatto un po di anni gli abbiamo fatti Vai continua a picchiare continua a picchiare Bravo 40 di danno non è male o no lo smoker è rimasto indietro Se vai ancora più indietro tecnicamente ti fa tippare dopo un tot Mi sa che ti stanno cercando di uccidere Ah sì I shotgun hanno l'usi hanno lo scar Non posso tipparmi non mi fa tippare ancora Tra poco sì tra poco sì Cavolo stanno rushando C'è uno dietro che mi sta cercando di ammazzare Ok Grande Ti prendo Iagos No non ho potuto prendere fuck Vai vai grande Ehi Iagos 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 fuck fuck ok Eh vai ho preso anche tag Oh Ottimo ottimo Iagos non mi ha cagato minimamente Dev'è lanciata la pipe bomb Non lo so ma gli zombie sono andati comunque da fuck Io immagino la heavy tank sarà piena di No No Mi ha visto Io immagino No Ho il charger C'è un boomer Ho un'idea Ottimo ottimo lavoro Ottimo lavoro Bravi 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 No aspetta 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 Non è il tank in questa sezione No Non c'è il tank U U Gu 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 No ma che cavolo No ma che cavolo Ma dai ma cos'è sto muretto Che falle Un muretto che non mi fa Il charger Cavolo sennò Ti prendo una cosa Hanno tutti i medici ancora Eh sì No vabbè ancora Io voglio provare a fare una cosa Si stanno curando Se il boomer riesce Aspetta 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 che non escono C'è qualcuno C'è qualcuno che può rompere quella porta Sì Charger mi pare che se desci rompi la porta Sta rompendo la porta loro Vai boomer Esplodi dentro dovrebbe Dove è fatto Fuck Fuck Eh lo so Vabbè dai Ottimo ottimo Vai Vai Charger No dovevi pigliare l'altro Vabbè Ok Vabbè Spendere quello che Buono 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 La colonne Tagole devo dare uno Ma forse non capisco come Andare avanti Vediamo se non capisco come andare avanti Ok Eh mi sa che Ma non hanno capito Abbiamo fatto noi Perché io ho lasciato Non l'ho fatto vedere Ok 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 Sto provando Ok 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 Il gun a terra 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 Non sanno come andare avanti Ottimo Ok 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 a terra Manca Leo Vai 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 Gioggi Dai isa che Fai Non ho l'abilità carica Guarda il cerchietto sulla mia icona Sono occupati Sono occupati Vai 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 Sììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììb gov Probabilmente è questa la mappa che è buona per i Era quella con l'acqua sotto Ah io non vedo l'ora Ah raga io non vedo l'ora di vedere il voto Sì sì è quella Questa è adatta per gli zombie Io prendo L'UMP Prendi sempre le armi a distanza Perché così se qualcuno ci grabba da lontano Almeno possiamo uscire E c'è l'MPC in questa volta Che è l'SMC che fa più danno del gioco Andiamo M14 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 davanti Sì sì subito Sì da sinistra Ok perfetto Qua potete cadere in acqua però ci rallenta C'è la deagle Via fuori dalle scatole Aspetta aspetta Oh è splitter dietro Qua sopra C'è qua sopra di noi Boomer boomer C'è un boomer Ok È full bone Andiamo 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 Ma andate che io vi guardo dietro Ok ti guardiamo Vai vai salta salta Non c'è uno splitter dietro Ok Buongiorno Ah se volete Ovviamente Aiuto Ok grazie Avete preso La sensazione La K ragazzi OP Prendetelo C'è la K Dov'è la K Ah c'è la K dietro C'è una C'è una K Vabbè ormai è lontano Ormai è lontano Ok Aiuto C'è la pioggia Non si vede niente Oh adrenalina No 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 Tranquillo Vindri Sono io Ah sono rimasto indietro Sono io Ci sono io Ci sono io Ah non ci sono io Ok Aspettiamo 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 Non c'è fretta Non c'è fuori Chatter Oddio Vabbè qua ci sono le scale Qui Per chi lo vuole Prendo io Prendo io Ok Sento giochi Prendo io Prendo io Prendo io Prendo io Prendo io C'è il giochi E qua sotto E sotto Eccola No C'è la mia C'è la mia Ok grazie Ok pillole Avevo preso io Molotov M16 qua Ah prendo io questa Che ci serve da molto lontano E io sono il cecchino Adatto Non ho svelato la nitro Non ho svelato la nitro Oddio C'è il coso Sono un po' più organizzati Oh 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 Oddio oddio Sopra 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 Ok Tu ti vai verso il Cosa qua Dove sono io Dove sono io Venite verso di me Non aspettare l'orda Ho visto una lingua Non so se sono sopra Ebbene Ok buona Ok Mai mi chiedi Aspetta io ho sentito i ding Oddio stanno volando cadavri Oh no c'è il boomer C'è il boomer sopra No 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 Va preso C'è caduto Quanti sono stati presi Occhio Occhio Solo io allora Sono andato Sono andato Sono andato Ma che cos'è sto boomer volato Ah il jokey qua sopra Ho visto Andate ad attivare la roba Salve dottor Stronzo Lo sento i giochi da qua Gira a 360 gradi Vai Bella cosa Andiamo 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 Non fatevi vedere dove siamo Almeno non capiscono Adesso c'è C'è un tank Io sto per finire i colpi Prendete il pompa Ma Steam bretti charge Era sorpresa Ok Ragazzi io sto andando Proprio corto di proiettili Eh c'era un fucile a pompa Vabbè Impazienza Vado di pistola poi Ok Anzi risparmi Risparmi i proiettili Occhio Non cadere Se no si Dobbiamo sfruttare sti Sti ponti Se li tiriamo giù con uno smoker Gli facciamo un sacco di danno da caduta Grazie Risparmi i proiettili del fucile E uso la pistola Ok Ah io sto qua ragazzi Boomer Ok Guarda raga raga Ciao raga Guarda dove sono Smoker dietro Ok andiamo andiamo Via 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 Qua c'è un Un'armetta Eh se volete Armi qua Morto Armi Ok Checkpoint Difubillatore Vabbè Non prendo io Uh medicit Medicit Ah qua qua è medicit mi pare Sì medicit Medicit Occhio c'è il boss Non entrate nella stanza Non entrate nella stanza Non entrate nella stanza Non prendete il medicit Beh allora mi cura e prendo il medicit Mi cura e prendo il medicit Fermi Non entrate Non entrate Mi cura e prendo il medicit Io c'ho l'adrenalina anche se nel caso Ehi Andiamo Andiamo Oh e diventa un tank Sì Dobbiamo shottare il tank Più velocemente possibile Lì c'ho il pombo Se voglio lancio la mola Eccolo Aia Sparate 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 Adreno Ok andato Mi ho preso Mi ho preso Ok Via Andiamo Cavolo Oh il boomer Non ha preso nessuno Mi cura Mi cura Mi cura Mi cura Faccio Faccio io Dove sei Isaac Fermati Vai 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 Veloce Charger Oddio Oddio mio La morte Ho visto Ok vai 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 Andiamo andiamo Lasciamo 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 Ciao Sono incastrato Sono incastrati Dietro No Sono incastrato Ok Mi ho incastrato I windy Mi serve che queste Vanno avanti Per un bel po' Di zombie Ci siete Aspetta Ho un'idea Vai Salite che Tutto una Moloto Qui Io ce la pipe bomb Se vi sterbe Poi Che ragazzi Io Mi sa che Che Vai 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 Corri Un po' Anzi Usa le pillole Adesso Mi sa Io ho due colpi contati Io ho due colpi contati Dai Ce la hai Andiamo 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 Vai Con due colpi Di quella Boss fight Di prima Per questo Che abbiamo perso Buona Allora Se adesso Li scioppiamo Gli inizio Non hanno più speranze Mi sa Possiamo anche noi Giocare Le prossime partite Possiamo divertirsi Sì Possiamo divertirsi Controllarli Ok Allora Non boomer Smocca Le splitter Non ti immagini Che le ammazziamo Da subito Io li spitto da dietro Subito Io appena spawno Gli spitto Se spawni Dove spawnano loro Allora Dove sono io Loren Dove sono io Flitta Loren vieni qua Appena spawnano Tu boomer Tu maestro Spitta subito Dentro lì Dai Loren Ce la puoi fare Loren Pronti Dai Loren Ce la posso fare Aspetta Aspetta Veloce Veloce Prima che spawni Qui dove sono io Qui dove sono io Sali le scale Sali le scale Ecco Tu spawno Tu spawno No Potri spaurare Aspetta Più dietro Deve andare Di danni Ok Buono 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 Quasi 33 Mi ha visto Anche Hanno già metà vita Hanno già metà vita Sì Mastri Come hai fatto a fare 178 con la spitter Spitter Oh mio dio E' giallo Mi sa che non può saltare bene Adesso Ah no Si si può Poco Eh si Stanno già utilizzando I medikit Dai Sono boomer Sono tutti separati Però non riesco a boomerarli tutti Io sono da Yagos Tag Io provo a prendere Yagos Quando ho Lo speed carico Vabbè io ho Provato a prendere qualcuno Ma Sono tutti separati No Ironicamente Eh Presi Yagos Yagos Sendo che sono qua però Tu rimane lì Mi hai fatto vedere Campi Tra la bella Chill 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 It's me CJ Ce la possiamo fare Mi vedo Ok Eh ti vedo Ma come fanno Sopra che sei lì What Aspetta 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 Mi Devi farete la prima mossa Devi vomitare a più persone possibili Sali sopra E buttati giù Ok Mi sono tipato Mi sono tipato Sali sopra Sali sopra Vedi che ci sono le scale Sali sopra Prova a salire sopra qua E buttati giù Appena Appena passano sotto Appena passano sotto Appena Sali sopra Sali sopra E' così morto Manca Tag è morto Tag è morto Grazie a spitter Io voglio rivedermi il bod Voglio vedermi il bod Ragazzi Io pensavo E' una tortura Non poter stare in chiamata con Tag In questo Ragazzi Non so Non so voi ragazzi Ma io devo essere sincero Ma dai Ma che cosa sa E' un'altra Ma fossero più forti ragazzi Io mi aspettavo Ma hanno preso fanca No dovevi scendere Poi per caricare Va bene 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 Anche può terra E' un'altra Vai Loren Grande grande Loren Dai che lo Dai che lo Graffia 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 Non ho visto Non ho niente Boomer Non ho boom C'è un'orancione Vi basta graffiarlo Un paio di volte Si atterra Ok Le stai curando No Non ho un po' Non ho un po' Non ho un po' Ok grande Buona Non ho buoni punti Dove mettermi io Aspetta No no Non l'ho lasciato indietro No non l'ho lasciato indietro Non sto vero Brutto salto Nice Sono un hunter Ma no Come non è caduto Vai grande Ma co Buono Vai vai No Prendi l'orancione Dai Aspetta Si aspetta A questo punto aspetta Oppure no Va bene E Assalto È stato un bellissimo assalto Questo qua Juke Dai Sono fermi Con un'ora e mezzo Guardate i nostri danni Guardate quanti due Ok sono due a terra E sono il charger No sono il giochi aspetta Piglio lo charger Portalo in acqua Portalo in acqua Vai mastro No no Charger Lo charger Lo portavi Alle bambini La bambina La bambina La bambina La bambina Prenditi medikit Medikit Ce ne dico We ready Ok andiamo Occhio che adesso potrebbero essere Aspetta Adesso potrebbero essere spawnati come noi Potremmo trovarci Appena spawnati Quindi Vediamo se sono organizzati Non sono organizzati Non sfruttano Stanno trollando Per me tag vuole riniziare a fare video Per me tag vuole riniziare Dietro Ho ucciso il final survivor E' sabotato Si sta autosabotando Del tipo lui dice No non voglio tornare a fare video Ma in realtà Aia A parte che l'introdista Ma poi è terribile Cioè che cos'è sta Spazio aperto Oddio per gli infatti E' brutto Piranate incendiarie E un medikit E il laser Eh ma abbiamo Abbiamo l'SMG Aspetta vediamo cosa c'è più Leggermente più avanti Ho messo le munizioni incendiarie Oh Grazie io Ok Ok Prende l'arma io Andiamo 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 Ah ragazzi Prendiamo soltanto l'arma principale Adesso è l'arma Ok vai Grazie Andiamo andiamo Everybody gangster Antilloren picks up Everybody gangster Antilloren picks up The deagle Vi immaginate se sti buchi Ci shottavano Se ci cadevamo dentro Oh Gesù Oh dobbiamo andare sia a destra Che a sinistra qua Sinistra sinistra Era a sinistra Era a sinistra Era a sinistra Era a sinistra Burga No era a sinistra Fidatemi dimmi che a sinistra Secondo me Se ci dividiamo velocemente no Hai ragione Posso dividerci Esatto come Almeno loro hanno Non riescono a prenderci Contemporaneamente Il problema è che se attiviamo due cose Non è che ci tipano Per la cutscene No perché c'è la cutscene Tipo Non c'è niente qua Mastro Non c'è niente Non c'è niente Avete attivato il pulsante Già fatto Già fatto Già fatto Già fatto Non c'è niente Aspetta Lo vedo Ottimo Ottimo Ok bisogna tornare all'inizio Adesso ci siamo Ok Buono Non ti vado avanti Sono rimasti qua No Eravati più avanti Ah vedi poco Ma io userò Ho mai tanto la scivolata di Apex Qui Sì Fermi Eh ragazzi Scuserò solamente la digola Adesso Ho deciso Under Grazie Oh la vp Uso la vp No Allora Vista che questa qua è una zona Ok io prendo Prendo il zecchino Ah io userò la vp Oh no Oh no Oh no Dov'è Occhio Sono andato alla Gordon Freeman Contro tag Ve ne rete Oh 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 Thank you Per giù Andiamo 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 Occhio al bosco Che è infame 20 colpi Sono pronto No Qui è attenzione Che è un casino Aspettate Aspettate Prendi il medico Medikit Medikit Aspettate Quale viaggio c'è il bomber Oh mio dio Chi l'ha visto Questa porta Vabbè Adesso sappiamo anche noi Oh no Mi ha preso un charger Hunter Grazie Cavolo Mi curo anche io Mi curo anche io Mi devo curarmi anche io Difendere Match shot Ok pace Mi sto curato Dovete stare attenti Dobbiamo raggiungerlo Però dobbiamo stare dietro i pilastri Se no ci fa danno Con quel parallelo Il Tommy gun Con la più alta risoluzione Del mondo No 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 Ok La mi sono curato Mi sono curato Dietro Smoker Sono smoker dietro Sì 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 No diamine La nozione Dopo dopo Andiamo Andiamo Ti rianimiamo dopo quindi No, no, I'm stuck, I'm stuck, aiuto No, door's stuck, door's stuck Door's stuck, door's stuck Oh, AWP Arrivo Eh, vedi, è perché c'è l'AWP, no? Allora, cosa volete prendere qua? La roba più stupida che c'è Oddio, no, 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 no Dammi la mia medica Ah, non mi sono alzato in fretta Ok, dietro boomer Ok, bene Ok, non ho, non mi ha dato il medica Ah, l'hai preso da C'è la vita gialla C'è una nitro sotto la scrivania Davvero? Ah, ok, non c'è più Qua, allora, la parte finale qua è terribile Perché continuano a spawnare Continuano a spawnare qua Se avete adrenalina abbiamo vinto Io pillole Io, non ho nulla Se trovate adrenalina prendetele, ci servono alla fine della mamma Ok No, aspetta Pillole Pillole, all'epasito Dove ho messo le drame? Andiamo Dove è il? Ragazzi, c'era un Ecco, adesso parte Adesso parte C'è una bile? C'è uno scout? Andate, andate, andate Andate Ciao, Cortex Correte, correte C'è una speedrun di questo Speedrun Vuoi andare, correte, correte Tutti e due Giochi, giochi, giochi Ok, c'è il finale C'è il finale C'è il finale C'è il finale Grazie.